È un uomo di 56 anni, le cui generalità rimangono per il momento sotto riservo, in attesa che venga completata la delicata fase di comunicazione ai familiari, il runner trovato senza vita nella mattinata di venerdì nel comune di Barbarano Mossano, in una zona che dalla campagna sale verso la collina, nei paraggi del convento di San Pancrazio. La vittima è un vicentino residente nelle vicinanze, avrebbe accusato un malore mentre si trovava da solo per una corsa. In quel momento sotto il sole si sarebbe trattato però di uno sportivo, quindi abituato a questo tipo di sforzo. I soccorsi sono scattati dopo l'avviso al 118 dato da un passante che ha notato un corpo riverso a terra sul ciglio della strada tentando di prestare aiuto in prima persona. Una volta sul posto la squadra d'emergenza ha tentato tutte le manovre come da prassi tentando di far ripartire il cuore del 56enne, purtroppo senza esito, sul posto una battuglia dei carabinieri. Sembra appurato che non si possa trattare di un investimento di pedone, viste le circostanze in attesa che la procura di Vicenza decida se approfondire o meno le dinamiche che hanno portato il cittadino vicentino alla morte prematura.